C'ho una porta che porto in casa, all'interno, e sono riuscito a infilarmi dentro. Ero chiuso perché stavo mettendo dell'erba nei sacchi, ho tagliato l'erba attorno e me la porto dentro. E a un certo punto sento vibrare, e ho già chiuso tutto. Ma facevo così il tetto. Ma una cosa, e poi a un certo punto prima di chiudere ho visto che è volato via tutto e ho chiuso. E' stato bestiale. Comunque io l'ho visto, stavo venendo da miliardi. Girava proprio con il fumetto bianco. Dico, è brutto, speriamo che non venga qua. Invece purtroppo ho preso qua. Questa è un peccato, non venga qui. Bina, non venga qui. Viene delmerini, eh. Guarda chi spostare di què accì. Questa qui accì. Cosa. Cosa? Perché non c'è qua lì. Ma mida ti facciò di qua? Ma... Poi non c'è chiù? Ma... Grazie a tutti. Grazie a tutti.